Una tre giorni dedicata al cioccolato e più famosi cioccolatieri italiani, un festival che ha la sua seconda edizione e che si terrà in Piazza Martiri a Teramo dal 1 al 3 febbraio. L'iniziativa, che già lo scorso anno aveva riscosso un grande successo di pubblico, è organizzata da Casa Artigiani, in collaborazione con il Comune di Teramo e la Camera di Commercio. Quanti espositori saranno in piazza e quali le novità? Ben 30 i gazebo, saranno presenti i cioccolatieri italiani più famosi con una partecipazione territoriale teramano-abruzzese di sicuro livello. Mi riferisco in particolare alla novità dello zafferino, cioè questo confetto prodotto da un'azienda locale che produce zafferano in collaborazione con un confettificio di Teramo. Poi avremo anche la possibilità di avere la degustazione di miele al cioccolato attraverso un apicoltore di Mociano che ha le arnie in tutta la nostra provincia, in particolare nel parco del Gran Sasso Laga. Poi avremo anche la possibilità, e ringraziamo il dirigente dell'Istituto di Popparozzi perché avremo anche una loro rappresentanza e porteranno delle fantasie artistiche di cioccolato e ci faranno degustare dei loro prodotti. E ultima cosa importantissima, avremo anche la chicchera, cioè la chicchera praticamente è una tazza di castelli del 1700 in cui i nobbi del tempo degustavano il cioccolato. Nel mondo del cioccolato, del gusto del cioccolato, quali sono le mode? Allora la moda classica che non cambierà mai è il cioccolato nero fondente, il bianco al latte e il cioccolato classico cacao al latte. Qui a Teramo presenteremo per la prima volta anche il quarto cioccolato, detto il cioccolato rosa rubi. È un cioccolato che si ricava esclusivamente da una fava di cacao ritrovata nuova e una fava rosa esclusivamente senza né addenzanti chimici né coloranti. E verrà presentato per la prima volta su questa piazza. Eccellenza artigiani in piazza, insomma ritroviamo le cose migliori e più belle del territorio. Assolutamente sì, siamo contenti per questa seconda edizione del Festival del Cioccolato. Avremo i cioccolatieri più importanti d'Italia a Teramo e quindi è un'occasione proprio per tornare in centro e appassionarsi di quest'arte che è l'arte del cioccolato e dei cioccolatini. Poi ci saranno tantissimi laboratori anche per i più piccoli, totalmente gratuiti, quindi invitiamo tutte le famiglie a venire in città perché veramente ne vale la pena.